Ben ritrovati in Spoticar Bergamo, qui in cittadella dell'auto a Bergamo, a due passi dall'uscita dell'autostrada, siamo ritornati per presentarvi tantissime nuove opportunità, non perdete neanche una delle nostre offerte. Partiamo subito con questa bellissima vettura ibrida, è una Renault Captura aziendale, è un'auto del 2021 e come questa ne abbiamo tantissime altre con tanti abbinamenti di colori. Sono delle vetture intensive, full optional, vetture intensive che completa di chiaramente cambio automatico perché è una vettura ibrida, ibrida e plug-in, quindi con l'autorigenerazione e la ricarica elettrica tramite la presa. La vettura è dotata di fare a LED, sensori anteriori, sensori posteriori, telecamera, navigatore, clima automatico, cruise control adattivo, insomma veramente completissima. È un'auto che trovate qui da noi a partire da 343 euro al mese, quindi un anticipo, un minimo anticipo che potrebbe essere anche la vostra vettura e delle rate a partire da 343 euro al mese. Per scoprire poi il prezzo d'acquisto invece senza il nostro piano finanziario andate sul nostro sito www.gruppoghinzani.it che troverete tutte le auto disponibili e il prezzo riservato. Passiamo alla nostra regina, quindi passiamo a Peugeot 3008, vettura che non manca mai qua da noi in salone. Presentiamo ad esempio questa magnifica 3008 1200 130 cavalli benzina. Di queste auto ne disponiamo tre in tre colorazioni diverse, bianca, grigio scuro e grigio platinum. Sono tutte allestimento all'UR, quindi presentano già di serie sensori anteriori, posteriori, telecamera, sistemi ADAS di controlli attivi, cerchi chiaramente in lega, vetri privacy oscurati e tantissimi altri accessori. Sono delle vetture aziendali, ripeto, 1200 benzina 130 cavalli del 2021, partono da un prezzo di 25.900 euro. Un prezzo super esclusivo, chiaramente vetture finanziabili qua da noi con tantissime soluzioni che sicuramente riusciremo a creare su misura per voi. Chiaramente qua da noi in Spoticar non mancano le occasioni per i neopatentati, non mancano qua da noi a Bergamo, non mancano a San Paolo d'Argoni, sicuramente non mancano a Calusco d'Ada, le altre sedi Spoticar. Noi qui a Bergamo presentiamo del gruppo Peugeot la 1.2 benzina 75 cavalli, la 208 Active. Abbiamo delle vetture disponibili e in arrivo, presto in arrivo, qui da noi in salone, che partono da un prezzo unico di 15.900 euro. Approfittatene perché sono un'occasione più unica che rara. E se cercate un'auto dal colore unico e dalla forte personalità, sicuramente Citroen C3 è l'auto giusta per voi. Qui la proponiamo nella motorizzazione diesel 100 cavalli, una vettura del 2021 in allestimento Philpac, super esclusiva e super completa. È un'auto che parte da un prezzo di 15.900 euro, con un'offerta finanziaria, con delle comoderate, con la nostra formula guida senza pensieri, anticipo di 5.000 euro, che può essere chiaramente anche il vostro usato da permutare, e 36 canoni da 199 euro al mese. Meno di 200 euro per guidare questa magnifica Citroen diesel. Piccola, agile, completa di ogni accessori, compatta ma molto spaziosa. Parliamo della Citroen C1, qui esposta nel colore bianco, nell'allestimento Philpac, con addirittura anche i sedili riscaldati. Per una vettura completa di ogni comfort, parliamo di una vettura immatricolata nel 2020, con 35.000 chilometri. Come questa abbiamo tanti altri esemplari di tantissime colorazioni, disponibili in pronta consegna, immatricolate tutte nel 2020. Partiamo da un prezzo di 11.900 euro. L'auto ideale per ogni famiglia, Citroen C5, qua da noi in esposizione a chilometro zero nell'allestimento Shine. Anche di questa vettura abbiamo veramente un'ampia gamma di disponibilità. Sono tutte vetture immatricolate tra novembre e dicembre del 2022, ripeto, a chilometro zero. Motorizzazione 1.5 130 cavalli con cambio automatico. Allestimento Shine, chiaramente sempre l'allestimento più esclusivo, più completo. Prezzo a partire da 34.900 euro, interamente finanziabile oppure finanziabile con la soluzione che abbiamo presentato poco fa, guida senza pensieri con Gruppo Ghinzani, 36 rate da partire da 390 euro al mese. Auto disponibili in pronta consegna, colorazioni ampia gamma, dal nero al grigio al bianco, tutte visionabili sul nostro sito, ripeto, www.gruppoghinzani.it. Ed ora passiamo ad una vera e propria esclusività del nostro salone, alla proposta di questo mese, Suzuki Jimmy, 4x4, ma è tura introvabile. Ma noi l'abbiamo, l'abbiamo qua disponibile in pronta consegna, ne abbiamo addirittura due che vi aspettano qua in Salone da noi, in Gruppo Ghinzani qua a Bergamo. Non vi dico nulla, nient'altro di quest'auto, le immagini parlano da sole. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e non perdetevi questa occasione. Un'altra novità di questa mese, due esemplari disponibili, Audi A1 Advanced 1095 cavalli. Sono delle vetture aziendali del 2021, con davvero pochissimi chilometri. Le chiamerei delle auto diversamente nuove, più che usate. Sono delle occasioni in pronta consegna, anche loro finanziabili con la nostra soluzione guida sereno. 36 caroni da 290 euro al mese. Diciamo che secondo me questa offerta parla da solo, non c'è bisogno di aggiungere altre parole. Venite a trovarci qua da noi in Salone e approfittatene subito di questa fantastica offerta. Chiaramente abbiamo visto solo alcune delle tantissime opportunità che trovate qua da noi a Bergamo, in Spoticara. Vi aspetto numerosi, mi raccomando. Vi aspettiamo qua sia io, Andrea, che Alessio. Un saluto e a presto. Buonasera, siamo qui oggi in Autoginzania, San Paolo d'Argoni, via Francesco Baracca, numero 40. Anche nella nostra sete potete trovare il prodotto Spoticar. Oggi avremo in esposizione alcune vetture del nostro usato. Vi ricordo di guardare sempre il nostro sito aggiornato e anche i nostri social network. Oggi presentiamo una Fiat 500, ottobre 2020 con solo 35.000 km. Questa versione è una versione full option con cerchi in lega, fari full LED, comandi al volante, CarPlay. Vostra con la Pro Moto Ginzani a partire da 14.000 euro. Adesso presentiamo una Lancia Ypsom, versione Gold 1000 Hybrid, guidabile anche per neopatentato. Questa versione qui è una versione top di gamma, con monitor CarPlay, Android Auto, sensore di parcheggio, climatizzatore, comandi al volante. È una vettura aziendale aprile 2021, può essere vostra a 13.800 con la Pro Moto Ginzani. Eccoci, altre due disponibilità Spoticar in pronta consegna. Due Jeep Renegade di colore bianca o grigia, versione Limited, sono tutte vetture km 0-2023, possono essere vostre a partire con la Pro Moto Ginzani-1000 da 25.000 euro. Eccoci qua, oggi davanti a una delle nostre grandissime occasioni della settimana. Fiat Tipo 1.6 diesel, 120 cavalli, versione Lange. Gennaio 2018, con solamente 45.000 km, può essere vostra a partire da 15.200 euro. Questa qui è una vettura full option con clima automatico, sensore di parcheggio, CarPlay, bracciolo, sedile regolabili in altezza, cruise control, limitatore di velocità, sensore di parcheggio, fari a LED, fendinebbia. Vostra Pro Moto a 15.200 euro, Pro Moto Ginzani. Eccoci qua, davanti a un'altra occasione della settimana. Fiat Tipo, Station Vagon di colore nero, è una versione Life, con aprile 2021 con solamente 28.000 km. Questa vettura è una vettura abbastanza accessoriata, con clima automatico, CarPlay, cruise control, limitatore di velocità, 4 vetri elettrici, bracciolo, può essere vostra a partire da 18.900 euro. Vi ricordo di visitare sempre i nostri siti, sono abbastanza aggiornati, per creare anche una lead che uno dei nostri collaboratori vi contenterà nel primo possibile per fissare un appuntamento e visitare il nostro showroom. Volevo ricordarvi che i prezzi sono tutti a partire da, per un semplice motivo, abbiamo una vasta disponibilità di pronta consegna, dalla 5 porta alla Station Vagon con motorizzazione benzina o diesel. Questo mese abbiamo una Pro Moto Ginzano meno 1000 per Spotticar, quindi veniteci a trovare per avere al prima possibile la grande offerta per voi. Grazie e buona serata. Benvenuti nella sede di Calusco D'Adda, altro punto Spotticar del gruppo Ginzani. Oggi siamo qui a presentarvi quello che è il nostro prodotto Spotticar anche in questa sede. Oggi parliamo soprattutto con un focus per le nostre grandi opportunità Alfa Romeo. Partiamo con subito un bellissimo occasione che è un Alfa Romeo Giulia Q4 nell'allestimento veloce, 210 cavalli, una vettura aziendale che oggi proponiamo a 30.400 euro. Macchina full optional con tutti gli allestimenti ricchi che contraddistinguono questa vettura, con già interno in pelle, fare lo xeno, cerchi ovviamente da 19, quindi vettura ottimamente prestazionale e in pronta consegna. Eccoci a un'altra opportunità, beh, la novità del momento, Alfa Romeo tonale, nel motore ibrido, 130 cavalli, è una nostra opportunità a chilometro zero, una vettura nell'allestimento speciale che praticamente ci permette di avere un allestimento top di gamma, compreso cerchi da venti, interno in tessuto alcantara, palette al volante con l'epoca preendori d'auto, quindi è una macchina full optional che in questo momento da gruppo Ginzani la potete trovare già in pronta consegna. Chiaramente questo prodotto l'abbiamo in offerta con la nostra promozione meno mille a 38.400 euro. Quindi da Auto Ginzani c'è anche questa proposta commerciale che ci permette di avere anche un risparmio economico durante l'acquisto. Eccoci qui davanti a un'opportunità aziendale che scalda il cuore di tutti, anche quelli non alfisti, una vettura aziendale disponibile in pronta consegna, un Alfa Romeo Giulia quadrifoglio verde, una vettura fantastica da una motorizzazione importante, 2.900 cm3 con 510 cavalli, una vettura aziendale con solamente 28.000 km dell'anno 2017, una vettura completa di tutto, compreso anche questo pacchetto carbonio sia per quanto riguarda le rifiniture esterne. Chiaramente è una vettura certificata Spoticar che ci permetterà di soddisfare l'esigenza di chi vuole veramente divertirsi su strada. Questa vettura oggi, con la nostra nuova promozione meno mille di Auto Ginzani, la offriamo a 71.500 euro. Chiaramente vi chiediamo di contattarci con un appuntamento e la faremo anche provare su strada. Vi ricordiamo che Auto Ginzani è anche concessionaria Fiat, Abarth e Lancia, quindi vi ricordo che avremo un appuntamento importantissimo che è il lancio della nuova Fiat 600, vettura nuova esclusiva che il gruppo Stellanti sta lanciando sul mercato. Vi ricordiamo che abbiamo un'anteprima importante per Bergamo e Provincia in esclusiva l'8 ottobre dalle ore 16 presso proprio questa sede di Calusco Dadda, ma per chi non riuscisse a venire a trovarci in questa giornata speciale, vi ricordiamo che dal 28 di ottobre sarà disponibile nei nostri showroom del gruppo Ginzani. Grazie e a presto e vi aspettiamo in concessionaria.